Come pensi di andare avanti nella vita se non studi Francesco? Bisogna sempre studiare Francesco, bisogna sempre studiare nella video che non ho fatto i compiti, ma ragazzi chiamate subito qualcuno, chiamate subito qualcuno perché Franceschiello non ha fatto i compitielli, Franceschiello non ha fatto i compitielli ragazzi e guarda qui che grande coda, che grande coda, guarda ti prendo a codate, è incredibile con questo gioco che veramente, come puoi vedere contro Petra, 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 uffa, ma la chat non funziona? Certo che funziona la chat, caro, anche l'Italia, come non funziona, prova a scrivere, Chris Viglio dice ciao, 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 come stai? Io ti faccio lo ciao, ciao, carissimo Chris, è uno scherzo, certo ti faccio lo scherzetto, lo scherzetto momentaneo, pensa un pochettino, perché ti faccio questo scherzetto momentaneo? Perché stavamo pensando, guarda qua la mutanda praticamente, ti porti la mutanda a casa, ciao, ciao Chris, addirittura il grande amico, Chris famosissimo ragazzi, famosissimo su tutto il canale del Giocherello, hai pensato un pochettino, il grande Chris, e stamattina vi ho anche portato Karate Kid, vi è piaciuto? Vi è piaciuto Karate Kid, col mitico Daniel San, spero che diventerai un ottimo architetto, che io sono già un ottimo architetto, ho già fatto il mio grosso, carissimo, ti ringrazio comunque, ti ringrazio comunque per la grande, per il grande augurio, grazie, grazie, Lorenzo Perazzo inviata, grazie, invia, invia tutta forza, praticamente la richiesta di amicizia, per giocare anche con tutti quanti, incredibile, incredibile davvero. Continuiamo quindi a correre e a scappare da ogni luogo, da ogni luogo, vedete qui sopra che cosa ci sta? La vecchia sbarra, pensate un pochettino a proposito di architettura, che una volta praticamente, che una volta dovevo installare in un mio progetto una sbarra, però poi dopo non ce la feci quei soldi, non ce la feci quei soldi, allora uno disse, disse, ma tu non hai fatto fare, non hai fatto fare troppi intonaci, ma non hai fatto mettere la sbarra, ma scusa, o faccio fare gli intonaci o metto la sbarra. Ecco qua ragazzi, ci fu una piccola situazione un po' bruttarella, e rifissato lui la sbarra, forse perché gli piaceva la sbarra, perfetto, perfetto, yao, Chris, io dovrei andare alla prossima, comunque, Dragon Far, se ti serve aiuto, con Sofia, ti aiuto, prendo la chitarra, vuoi fare la serenata, serenata rap, la serenata tropicale. Chris, ancora non c'entra sui abbonamenti, abbonamenti sono mantenuti, caro Chris, gli abbonamenti partiranno da novembre, per esempio, non ti preoccupare fratellino, ma io ti ringrazio. Ecco qua intanto è arrivata la poliziotta, ragazzi, guardate qui sopra che cosa succede, la poliziotta che sta dicendo a queste tre ragazze, che sono praticamente le poliziotte di turno, stanno dicendo certe cose, vado a urinare, un secondo Lorenzo pensava, perazzo vai nel bagnetto. Anche io sono romantico, anche tu sei romantico con la cosa, praticamente, con la chitarretta, come Bud Spencer quando faceva Aspettami alla finestra, amore mio. Ti ricordi la canzone quando Bud Spencer faceva Aspettami alla finestra, amore mio? Io me la ricordo molto molto bene. Andiamo avanti qui sopra, come potete vedere, dobbiamo ancora continuare, ah mamma mia che colpe assurde, dobbiamo ancora continuare a pigliare a cazzotti a questi personaggi, personaggi anche un pochettino violenti, addirittura la poliziotta, la poliziotta a giga Miranda la vipera, pensate un pochettino a questo personaggio, si chiama Miranda la vipera, ragazzi, vedete, Mirandiella, Chiacchiappa, Le Mazzatiella, addirittura un calcio in bocca, praticamente un calcio in bocca da mamma. E ci continuiamo, ovviamente, questa parte qua, ora lo devi colpire, praticamente, è incredibile, è incredibile. Miranda, Miranda è un pochettino, anche un pochettino, mamma mia, guarda che cazzotto in su, è assurdo. Possiamo scegliere la mucca, ragazzi, è arrivata la donna mucca, pensate un pochettino, la donna mucca, abbastanza lenta, però come potete vedere ha questa grande particolarità, può fare questo attacco assurdo, l'attacco incredibile, la sua pancia gigante, vedete, l'attacco mucca, ragazzi, incredibile, veramente. Quel gioco è 0-4 per persone un po' grandi, quale gioco, quale gioco, questo video, quali sono i giochi per le persone grandi, chi è, facciamo una partita, una partita, vuoi fare una partita a Brawl Stars, la possiamo fare anche dopo, dopo possiamo fare anche una bella partitella a Brawl Stars, vedi un pochettino, il colpo di bombolone, praticamente, il colpo di bombolone con la ragazza che ti prende a schiaffi, la ragazza mucca, che effettivamente è molto, molto lenta, come potete vedere, vedete, la butta praticamente per l'aria, e non ce la facciamo una partitela, Lorenzo Perazzo è molto, molto, mamma mia, la butta per l'aria, ragazza, è incredibile, mamma mia, in faccia proprio, in faccia, vedi un pochettino, non riesce, non riesce, praticamente con questi schiaffetti, è una ragazza un pochettino lenta, praticamente, come puoi vedere, mamma mia, che colpo in faccia, Dragonfire vuoi venire a Fall Guys, Fall Guys, praticamente, ti piace il gioco dei pupazzetti, ti piace il gioco dei pupazzetti, dove questi pupazzetti vanno, praticamente, a essere attaccati, vai con la tecnica dei bomboloni, addirittura, vedi, con la tecnica dei bomboloni, che sono riuscito, ovviamente, ad abbattere tutti i mostri, non lo tengo, voglio Fall Guys, Mirko il Calabrese, come mai ti piace tanto questo gioco, quando l'hai conosciuto questo gioco, carissimo Mirko il Calabrese, adesso Mirko ce lo spiegherà, scusate che ho bevuto un caffè, e quindi adesso stavo facendo il ruttino, andiamo a premere queste parti qua, e iniziamo quindi subito a giocare, a portare avanti queste incredibili avventure, le tre ragazze sono riuscite, praticamente, a compiere un grande, una grande impresa, hanno vinto, hanno vinto contro la poliziotta cattiva, ti voglio mandare l'amicizia su Brawl Stars, addirittura, su Brawl Stars, metti me gamer 89, andiamo su Brawl Stars, vogliamo andare a giocare a Brawl Stars, vediamo un pochettino, guardate un pochettino quanti personaggi abbiamo preso, abbiamo preso anche le mutande, incredibile da avere, addirittura ci hanno anche pagato, continueremo quindi adesso a giocare, come potete vedere abbiamo una vera e propria mappa, ragazzi, avete capito ogni quadro di gioco, mamma mia ragazzi, guardate questa qua, la poliziotta pazza, assolutamente ogni quadro di gioco, pensate un pochettino, schippiamo questa parte qua, qui c'è una specie di imperatore nero, come potete dire, guardate un pochettino, la signorina, mostro praticamente, qui sopra siamo all'interno di questo posto, praticamente nel posto dove le ragazze cercano, cercano di fare qualche cosa, ragazzi, vedete, andiamo a piegare questi elementi, incredibilmente, e continuiamo quindi a correre, praticamente, perché ragazzi, perché sono ritornate, sono ritornate le ragazze, te l'ho inviata su Brossal, Mattia, 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 colui che porta sempre la grande euforia, sono giochi, sono giochi momentanei, praticamente, come potete vedere, guardate un pochettino i bomboloni, manda i bomboloni, mamma mia, manda i bomboloni, intanto arrivano delle macchine che ci saltano purtroppo addosso, ci saltano addosso, ci vengono praticamente addosso, andiamo avanti a questa parte qua, Mattia, 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 intanto è arrivato il grande Mattia, ragazzi, dentro la spazzatura vediamo un pochettino che cosa possiamo trovare, vedete, si trova sempre qualche cosa di interessante, c'è un coltellaccio, un coltellaccio che possiamo casomai recuperare, vedete, ragazzi, qui sopra, andiamo a fare la mitico colpo speciale, vedete, questo colpo è veramente incredibile, questo colpo è veramente incredibile, cerchiamo di prendere, praticamente, non possiamo prendere, vedete, ragazzi, queste parti qua, possiamo solamente abbattere i birilloni, praticamente, i dissuasori, ma pensi che non ti abbono, che non ti abbandono, non mi abbandonare mai, non mi abbandonare mai, caro Francesco, non ci abbandonare mai, non ci abbandonare mai, guardate, ragazzi, che cazzo che ti faccio, il wireless, lo tieni in wireless per giocare a Fortnite, quante volte hai cercato tu di giocare a Fortnite, vedi un pochettino, guarda che colpo veramente assurda, assurdo, la ragazza mucca, praticamente, vedete, boom, si butta di bomboloni, praticamente, si butta di bomboloni dappertutto, andiamo a cercare, mamma mia, l'ha preso in mano, l'ha preso in mano, guarda un pochettino che mazza in mano gigante, che ha preso la ragazza, la ragazza con questa mazza gigante, praticamente, con questo palo gigante, addirittura che lo agita, come se non ci fosse un domani, la ragazza qui sopra, la motociclista, vedi un pochettino, stiamo attenti da queste parti qua, mamma mia, mamma mia, che colpi assurdo, addirittura gli ha staccato la testa, una scena un po' bruttariella, dobbiamo dire, ma dobbiamo scendere, io ho giocato un gioco quasi uguale a questo però, con le tartarughe ninja, lo so, lo so, carissimo Chris Vide, un gioco, un picchiaduro a scorrimento, questo genere si chiama picchiaduro a scorrimento, Lorenzo perazzo, si mette a ridere, si mette a ridere, si dice, giocheremo, ma che sta dicendo, vengo subito, così ti invio lì di di Brollo Star, la macchinetta, la macchinetta, praticamente, vedi un pochettino, ti acchiappa di bomboloni in faccia, la ragazza bombolona, praticamente, vedi un pochettino, mi vado, ovviamente a calcare, a calcare questa parte qua, e adesso basta, ragazzi, addirittura si è buttata di testa, e la testa della motociclista è saltata in aria, boom, di bomboloni si butta. giochiamo, giochiamo tutti quanti insieme, lui a scarico Fall Guys, giochi con me, per favore, certo, dopo scarico Fall Guys, così giocheremo tutti quanti insieme, intanto, guardate chi è arrivato, ragazzi, sono arrivati loro, praticamente, le ragazze della sala giochi, addirittura la ragazza piccolina, quella là, ovviamente, più, la terribile, praticamente, la terribile, pensate un pochettino, la terribile, verrà ricordate, ragazzi, quando c'era quella ragazza che si faceva chiamare, la terribile, e si è buttata di bomboloni, è arrivata, mi compare Dragonfire, sai perché ti compare Dragonfire? Ti compare Dragonfire? Perché Dragonfire è un ragazzo davvero incredibile, ragazzi, vedete, possiamo addirittura prendere quest'altra parte, ovvero questa testa, ovviamente, di moccio, ma guarda un pochettino la ragazza, che purtroppo, ragazza, quasi fantasma, come puoi vedere, vedete, un pochettino, andiamo a cercare di attaccare, ovviamente, questa parte qua, e buttati di bombolone, praticamente, buttati di bombolone, non ce l'ha fatta, col bombolone, non si scherza mai, e vedi che Dragonfire, già ti è riuscito, Dragonfire, a prenderti, a prenderti da questa parte qua, e subito, subito, ovviamente, dobbiamo cercare di attaccare il Giocherellone, domani puoi portare Gardner un Bambam, non c'ho ancora giocato, non so che cosa sia, che tipo di gioco è, caro Francesco, dimmelo, perché così, ovviamente, cercherò, cercherò, ovviamente, di portartelo, di portartelo, e di fartelo, sicuramente, vedere, vedere, non ti preoccupare su queste cose qua, e su questo, lo sa che sul canale Giocherellone, ci sono le grandi, sempre, ci sono le grandi, addirittura, novità, novità della serata, la novità della giornata, addirittura, guardate un pochettino questo, perché cosa andiamo a fare, andiamo a distruggere, ovviamente, questi incredibili, questi incredibili, ovviamente, eroi, metti il codice di Fallgas, così vengo anche io, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, andiamo a buttare via, praticamente, la motociclista, ma guardate qui, ragazzi, quante cose abbiamo preso, possiamo prendere, addirittura, questa grossa mazza, così questa signorina, ovviamente, sarà sicuramente contenta, addirittura, la chiave di accensione della mitica, guardate un pochettino, si butta di corna, praticamente, si butta di corna, la mucca gigante, ragazzi, ed ecco qua, l'attacco che volevate sempre vedere, l'attacco che volevate sempre vedere, andiamo a prendere, ovviamente, addirittura, che cosa è questo, una specie di coltellaccio, ragazzi, un coltellaccio che non possiamo prendere, perché il gioco è quasi, è quasi finito. Quindi, che dirvi, ragazzi, di questo Made in Cops, sicuramente un picchiaduro a scorrimento con le ragazze, come potete vedere con queste ragazze, che vanno sicuramente a combattere, a cercare di sconfiggere il male, ragazze, diciamo, mezze ragazze, mezze animali, la coniglietta, la saramandra e la mucca, ma anche i loro avversari, ovviamente, sono così variegati. Francesco dice, English o Spanish? Giocherano è sicuramente English. E a carità dice, Idy Brossard bomba nucleare, il bombolone. E il Mirko Calabrese è impazzito. Detto questo, detto questo, che dirvi, ragazzi, di questo incredibile videogioco, vale la pianocchia su tua madre, ce l'ha le corna. Mirko Calabrese, cosa dici queste cose qua? Mirko Calabrese, Mirko Calabrese, Mirko Calabrese. Stai attento, Mirko, che puoi rischiare un richiamo dal punto di vista dell'intelligenza artificiale di YouTube. Attenzione, perché poi scatta il ban, scatta il ban in maniera automatica, quindi cancella subito il messaggio, Mirko, cancella subito il mercato. Luca, ti sto aspettando, Mirko, fatti controllare, fatti controllare, sicuramente, non so perché Mirko ha detto questa cosa, ragazzi, speriamo che sia stato un errore, spero che Mirko non solo cancelli il messaggio, ma si scusi anche, si scusi anche, Mirko, ma poi non è da Mirko, è sempre stata una persona educata, dobbiamo dire la verità, non so perché abbia detto questa cosa qua, rimango veramente senza parole. Mirko, cancella subito il messaggio perché scatta il ban automatico, scatta il ban automatico dal canale, addirittura da YouTube, ti può chiudere anche l'account, quindi Mirko, attenzione a quello che si scrive perché poi dopo tutto è registrato, e no Capricolo non sta bene, no no Mirko, 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 non puoi dire queste cose, non puoi dire queste cose, Mirko, attenzione, non dire queste cose, non dire queste cose e poi ti arriva direttamente, ti viene chiuso l'account, è molto molto brutto quello che è scritto Mirko. Va bene signori, a fronte di questo, a fronte di questo direi che il gioco gli do un buon 6, un buon 6 perché in realtà esistono giochi sicuramente migliori, soprattutto per controlli e velocità, e che dirvi, vale la pena, vale la pena di giocarlo, secondo me no, secondo me no perché esistono prodotti nettamente migliori in merito, ovviamente questo è stato un errore, io ho scritto mio cugino, è perfetto, perfetto, tuo cugino è stato che gli ha scritto 70 a tuo cugino, ecco qua il cugino del Mirko al calabrese, però ricordati che il responsabile dell'account sei tu, e non dare quindi l'account in manato che non ci crede, infatti non ci crede nessuno, carissimo, carissimo, carissimo coso, praticamente carissimo Mirko al calabrese, quindi scusati subito con il caro Francesco, perché altrimenti Francesco se adesso fatti segnalo, se adesso fatti segnalo, il caro Francesco, succede tutto di più, è arrivato Pino Shooter, il nostro capo moderatore, pensate un po' che è il nostro grande amico, pensate un po' che è il grande Pino Shooter. Va bene signori, che dirvi, il giocherellone fa due minuti di pausa perché vi vuole portare un altro incredibile videogioco, e detto questo, se vi è piaciuto il video ovviamente mettete mi piace, condividete il video e commentate, il gioco della mutanda pazza come potete vedere, e per il resto, per il resto, ovviamente, per il resto ovviamente non posso che, non posso che aspettarvi sul mio canale, YouTube e Twitch, tutti i social network e il giocherellone sono praticamente nel box informazioni, non voglio ripetermi, libri del giocherellone sapete già dove comprare, cliccate in box informazioni e troverete i libri del giocherellone, che altro ci sta, ci sono i gadget del giocherellone, cliccate in box negozio, e un'altra cosa molto molto ovviamente importante, se volete avere le migliorie, le migliorie come anche a Pino Shooter potete abbonarvi e donare al canale, così da rendere ovviamente l'esperienza maggiore. L'ultima domanda, vai Francesco dimmi tutto, il giocherellone ciao, è stato il mio cugino, c'è la foto, c'è la foto del cugino che scrive, addirittura, Chris dice sì sì vabbè vabbè Mirko il calabrese ciao, però aspettiamo sull'ultima frase, sull'ultima frase praticamente del nostro caro Franceschielo, Franceschielo cosa ci volevi dire, cosa ci vuoi dire caro Francesco, aspettiamo ragazzi l'ultima parola di Francesco, andiamo a vedere intanto che la coninghietta praticamente va qui sopra a cercare di butta 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 questa palla, ecco qua la ragazza, la ragazza di Pino Shooter, la ragazza del casino, voi sapete che Pino Shooter molte volte la sera esce praticamente, esce da solo, esce da solo e a volte va nel casino. Hacker Italia, Hacker Italia 23 dice che è bello, che è bello questo gioco, che è bello questo gioco, viva YouTube e vive videogiochi che porta sempre il giocherellone, il tuo grande amico Franceschielo ciao, grande Franceschielo ma dobbiamo capire un attimo Francesco che cosa vuole dire, pensate un pochettino, questo è il gioco preferito da Pino Shooter, non so se lo sapete, vedete molto copiato sicuramente da scritto reggio con la ragazza che cammina col coltello e ti carica, ricorda il mio dia, creda, oh sei mutato, mi sono mutato in che cosa, ma lo sembra che dopo fai questa, è una live a sorpresa, una live per tutti voi a sorpresa arriverà praticamente proprio dopo questo gioco, Francesco scusami, tanto ti voglio dire una cosa, che cosa gli vuoi dire praticamente caro Mirko al calabrese, vediamo un pochettino Mirko al calabrese, che cosa dirà al caro Pino Shooter, pensate un pochettino, guardate qua, l'orsacchiotto di mamma, te l'ho mandata a Mattia.